Eccolo qui Valerio Lomonaco, proprio il ribelle, la voce del ribelle, lui è un ribelle. Valerio buongiorno e bentrovato. È un piacere risentirti Valerio. Anche per me, buongiorno a tutti voi e a tutti i vostri ascoltatori. La radio è voce, noi ti riportiamo i tanti complimenti di amici ascoltatori che hanno apprezzato, oltre alla qualità del lavoro che fai, anche questa capacità radiofonica. Eh grazie, troppo buoni. No, no, ci sono dei mostri bravissimi, amici che sono naturali e li porti in radio e non si capisce molto, purtroppo. O comunque non hanno questa dimestichezza con la radio. Non so se è un caso di fortuna o altro, però insomma... Credo che si nasca con delle caratteristiche, poi magari ci si lavora. È un po' talento. Ognuno alle sue. Ognuno alle sue. Valerio, buon anno innanzitutto. Grazie anche a voi. A te e alla voce del ribelle, a Massimo Fini, anche auguri più strettamente personali, ci mancherebbe. Fra sei mesi, parto, lo spunto è l'ideale titolo del tuo articolo, fra sei mesi l'Italia ci sarà ancora. Ovviamente c'è molta enfasi e molta provocazione, ma c'è anche un'analisi altrettanto incontrovertibile. Fra sei mesi ci saremo ancora. Poi? Allora, innanzitutto non è una mia analisi, ma è un'analisi delle banche stesse. Il ragionamento prende lo spunto dal comportamento delle banche nel corso di una delle ultime asse relative ai titoli di Stato con scadenza a sei mesi. Come abbiamo visto, chi se lo ricorderà, i tassi sono letteralmente dimezzati. Cioè gli interessi che il nostro Stato dovrà pagare sui titoli di Stato piazzati con scadenza a sei mesi sono dimezzati rispetto a quelli di un mese prima. Questo è il merito di Monti? No, niente affatto. Questo è il merito di Draghi che attraverso il meccanismo denominato di credito illimitato, liquidità illimitata, alle banche ha di fatto stampato moneta, un po' come Totò e Peppino De Filippo nel film. La banda degli onesti. Esattamente, ha stampato moneta e l'ha data alle banche. Bisogna stupirsi di questo? No, perché ovviamente la Banca Centrale Europea non è un istituto pubblico, ma è un istituto privato posseduto dalle banche stesse. È evidente dunque che nel momento in cui la Banca Centrale Europea stampa moneta non la dà a chi ne avrebbe reale bisogno, ovvero i popoli europei, ma la dà alle banche. Questo è cosa hanno fatto con questo denaro che è piombato all'interno delle proprie casse a un tasso di interesse dell'1%. Basterebbe questo per scatenare una rivoluzione. Cioè la Banca Centrale Europea ha stampato moneta a costo zero e ha dato moneta con liquidità illimitata alle banche a un tasso dell'1%. Tecnicamente avrebbe dovuto farlo, perlomeno queste erano le intenzioni, per fare in modo che le banche stesse potessero poi a loro volta prestare del denaro e dunque fare credito ai cittadini e alle imprese che ne avevano bisogno, per evitare il fenomeno del credit crunch, ovvero della contrazione del prestito delle banche a chi ne ha bisogno. Le banche cosa hanno fatto? Hanno investito in titoli di Stato a sei mesi, quindi hanno fatto esattamente una cosa opposta a quella voluta in teoria da Mario Draghi e dalla Banca Centrale Europea. Dunque si sono riversate sul mercato e hanno comperato i nostri titoli di Stato a sei mesi, sottolineo ancora questa cosa qui, facendo crollare di fatto il tasso di interesse che dobbiamo pagare. A questo proposito dobbiamo essere felici, non molto perché le banche facendo così hanno sostanzialmente fatto un investimento sicuro. È evidente che l'Italia non dichiarerà default in sei mesi perché non ci sono propri tempi tecnici per una situazione di questo tipo. Pertanto quale investimento più sicuro? Che è quello di ricevere denaro pagandolo a un tasso di interesse all'1% e acquistare dei titoli di Stato che in sei mesi in modo sicuro renderanno il 3,5%. Ecco, è una dinamica tutta interna delle banche che spiega il fenomeno, non era una mia analisi. Ecco, intanto questa mattina sul Fatto Quotidiano leggevo in prima pagina che se andiamo a chiedere adesso un mutuo in banca non abbiamo molte garanzie o molte sicurezze di riceverlo. La cosa conferma la tesi non solo in termini di mutui che in questo momento hanno dei tassi intorno al 6 o 7% per quanto riguarda quelli a tasso fisso. Le banche non prestano più perché non si fidano dei cittadini, questo è il punto. Ma il fatto è che recentemente è stato alzato ulteriormente il tasso di interesse che le banche possono applicare a chi chiede loro denaro senza entrare nel campo dell'usura. Parliamo di tassi che attualmente si aggirano intorno al 17-18%. Ora, se non è da considerare usura un tasso di interesse del 17-18% io francamente non so più che cosa può considerarsi usura. Malgrado questo, ovvero malgrado il fatto che le banche possano avere denaro dalla Banca Centrale Europea pagandolo solo l'1% e possano per legge prestarlo fino a dei tassi del 17-18% oppure per dei mutui come abbiamo detto intorno al 7-8% queste non lo fanno, non si fidano dei cittadini e preferiscono investire in titoli di Stato a 6 mesi. Ben inteso, quelli a 10 anni sono rimasti e rimangono tuttora attorno al 7%. Cosa significa, questo per tornare al mio articolo, che entro 6 mesi è certo che l'Italia non farà default, anche le banche hanno investito pur avendo un guadagno minimo del 3,5% però sicuro. Per quanto riguarda invece i bot, a 10 anni gli unici che hanno investito in questi bot sono stati gli italiani che sono stati letteralmente truffati con il famoso bot day. Guarda caso proprio delle banche, cioè le banche si sono liberate dei titoli di Stato che avevano a 10 anni e lo hanno rivenduto, evitando di mettere dei balzelli per le transazioni, ma ovviamente la cosa è tecnica e speculativa, agli ignari cittadini che si sono riversati ai loro sportelli. Ecco, viene da sorridere perché dice che le banche non si fidano dei cittadini, dovrebbe essere il contrario in realtà. In teoria sì, così come dovrebbe essere il contrario che la Banca Centrale Europea facesse gli interessi dei cittadini ai quali deve dare moneta, invece come abbiamo visto è chiaramente una partita di giro tutta interna, sono le banche stesse, molte banche europee, quasi tutte, e molte banche italiane che hanno delle percentuali di azioni della Banca Centrale Europea, quindi non stupirsi del fatto che poi Banca Centrale Europea e banche stesse fanno una partita di giro tutta interna dal quale rimangono del tutto esclusi i cittadini. Noi salutiamo Valerio, lo ringraziamo per questo, mentre chiudeva proprio il suo ragionamento Banca Centrale, allora ho pensato anche in una sovrapposizione di comuni poteri, di ugual poteri, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, ho ripensato alla storia di Ivan Heine, il 33enne sottosegretario argentino che si è tolto la vita, si sarebbe impiccato nella stanza di questo albergo a Montevideo in Uruguay dove aveva presenziato ad una riunione, si parlava di Fondo Monetario Internazionale. Le ultime parole che gli hanno sentito dire e proferire in pubblico sono state proprio queste, non posso farlo, non posso permettere che si faccia questo al mio popolo, alla mia Argentina. In altri momenti si sarebbe detto che è stato suicidato. Bellissimo, cosa hai ricordato? Un termine assolutamente cronistico, bello. Valerio, buon lavoro, complimenti e buon anno. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, grazie a Valerio Lomonaco, la voce del ribelle.